siamo davvero alla conclusione allora vorrei qui il presidente Piero Chiarini e Sandro Melarangelo direttore artistico del premio Gianni di Venanzo eccolo Piero allora io intanto invito tutti quanti a fare una foto sopra il palco per festeggiare queste tutti i premiati magari se ci vogliono raggiungere nella foto ufficiale il maestro Seconi dopo il saluto del direttore artistico Sandro Melarangelo a eseguire un brano di accompagnamento io volevo dire che noi 15 anni fa poco più sentimmo alla radio una dichiarazione del maestro Storaro che ricordava che era avuto il premio giovane in quanto era giovane dedicato al un grande premio il premio dedicato a Gianni di Venanzo e ci tenne a specificare al grande maestro Gianni di Venanzo da Teramo noi ci inorgogliamo e da lì proprio da quella dichiarazione di Storaro da quel premio e con Teramo Nostra abbiamo deciso di fare questa manifestazione che oggi ha 15 anni quindi grazie a Storaro sta diventando maggiore 15 anni di attività 15 anni di forti emozioni torna il maestro Storaro veramente grazie facciamoli arrivare qui sul palco mentre vado a ringraziare la regia di Gianfranco Manetta al pianoforte Daniele Secondi le coreografie del liceo artistico di Teramo Marco Deramo luci e video grazie Marco poi gli abiti della boutique Rinascimento di Teramo per le nostre collaboratrici di palco coscenico le acconciature Air Studio di Pisana audio video di Massimo Marcelli le foto di Franco Teramo di Franco Di Carlo e mentre con questo omelano noi ci diamo appuntamento alla sedicesima edizione vi lascio in compagnia del maestro Daniele Secondi per la sua composizione insieme a Marco Secondi al flauto Traverso e buonanotte da Antonella Salvucci grazie 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 grazie